Il conto alla rovescia è già cominciato all'inizio del processo su mafia, capitale nell'aula, Bunkardiere e Bibbia mancano solo 20 giorni, ma nonostante un sindaco dimissionario e l'inchiesta della procura che hanno travolto politici, imprenditori, faccendieri a Roma, l'anno zero sembra ancora lontano. A sbarrare la strada al nuovo inizio e a rendere difficile la ripartenza ci potrebbero essere i nomi più di cento elencati in una relazione rimasta ancora segreta e di cui svele il contenuto l'espresso in edicola domani. Un rapporto firmato dal prefetto Maria Elisa Magno, presidente della commissione di accesso e accertamento nominata lo scorso dicembre con lo scopo di comprendere fino in fondo l'influenza di mafia capitale sulla macchina amministrativa romana. Per questo, oltre ai nomi, già nelle cronache dell'inchiesta ci sarebbero anche quelli di tanti altri rimasti finora nell'ombra dirigenti, funzionari, impiegati, dipendenti di Roma Capitale. Molti di loro non sarebbero al momento nemmeno indagati, quindi secondo l'espresso ancora liberi di fare danni dalla gestione delle gare pubbliche agli affidamenti diretti. E se il segreto venisse tolto sul dossier potrebbe scattare un nuovo filone d'inchiesta. Solo ieri la decisione dell'autorità nazionale anticorruzione guidata da Raffaele Cantone di bloccare la prima gara assegnata dal Comune per i lavori del Giubileo con due imprenditori e un funzionario del Dipartimento Sviluppo e Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma finiti ai domiciliari con l'accusa di corruzione e turbata libertà degli incanti. Prima gara, primi arresti. Vicende contrattuali connotate da palesi legittimità per agevolare mafia capitale. C'è scritto nero su bianco nella relazione per ricordare una serie di atti commessi da chi è ancora al proprio posto negli uffici nevralgici del potere a Roma.